Prima che inizi il video il solito black screen per ricordarvi quanto siete fantastici e quanto io vi voglia un bene che non si può nemmeno capire per quanto vi voglio bene, per quanto vi ringrazio per quello che fate per me Registrare questo speciale è stata una delle cose più emozionanti della mia vita perché vedervi sorpresi nel trovarmi su Amigol mi ha fatto capire che voi tenete a me tanto quanto io tengo a voi ed è davvero tanto Ed è questo uno dei legami secondo me più belli del mondo quindi vi ringrazio soprattutto per i traguardi che voi mi permettete di raggiungere Grazie, grazie mille, buona visione Qua registra, qua sta registrando, sì Ok, si comincia Ah, comunque la fine del telefono è ricordato Ciao Ciao Non se ne è accorto, ciao Non se ne è accorto Non ci vede Ciao, bello Mi fate un po' più là E non... come faccio a farmi più in qua? Questo è lo spazio MENU Ciao, gatto Fai una faccia buffa Ma secondo te mi sente? Si, mi sente Perfetto Green shot Vai Che ha detto? Fammi fare il green shot Say hi, you bought like cookie moon and branco Ciao, amico Ma cos'è? Ciao, c'è? Un tavolo Ciao Ma... Chi è? Non l'ho fatto già vista Sì, infatti E' albi Sì E' albi Perché con questa luce non ti si vede, albi Sembri Gesù Sembri Gesù No, ti giuro Guarda La luce dietro non si vedeva Poi sei più basso del solito Se ti vedi così non si vede tutta l'armadio Alza, ti fai vedere quanto sia armadio Ciao 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 amico, sono Charlie Non so se lo sai No, mi senti no Salta la stampa Aspetta Ti saluto in modo più sexy Un attimo Tu ti meriti un saluto sexy Perché mi stai simpatico Ma non si vedeva Niente Ciao Ciao Vai, dai, dai Quanti anni hai? Come ti chiami e di dove sei? La domanda era una nera Non è uno stalking Devi fare una domanda Da quanto segui Charlie Moon? Da quanto segui Charlie Moon? Allora, vediamo Vai, vai Vediamo il vero fan Vediamo Adesso dice tre anni Anche se sono da un anno su YouTube Il fail della vita Un anno Ok C'hai azzeccato Brava Fai una faccia buffa per la stampa Grande Ciao amico Ciao Ciao Ma ogni tanto ci sono persone nere Non so se non hanno Non so se non hanno la webcam Ce ne hanno Come? Mi ha schippato Ce n'è un altro Ho visto il cappello No, senza cappello Con il cappello non mi riconoscono Tipo Ho capito Charlie, Charlie Mario, Ian Mi hai evocato Sono qui Mi hai evocato Sì Posso giocare Posso giocare Se volete Vediamo Bellissimo È stupendo ragazze Oh mio è stupendo Chi l'ha fatto di voi? Chi l'ha fatto di voi? Io e lei È stupendo Questo esce sicuro Lo metto sicuro È meraviglioso Oh, non c'è nessuno Ciao Oh, non c'è nessuno Ciao Ciao Sento il tuo eco Cosa? Cosa? Fai stop Ora Mettetevi in posa Vai, fai una faccia buffa Discotti Vai, fai una faccia buffa Una faccia buffa Voglio fare il castoro Attentino Vai Pronto? Ciao 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 Che cos'è? Oh mio è scomparso L'avete visto tutti È scomparso L'avete visto tutti È scomparso Salve signore Buonasera Oh, il gattino Che bello Mi fai dare un bacio al gattino Ti prego Ok, perfetto Avrete notato il baffetto di Charles No, no, è il baffetto Me lo sono fatto ieri Ciao Mica Pixel Vedo dei pixel Cos'è? È buia È una casa abbandonata Se fate uscire qualcosa all'improvviso Vi picchio Cosa? Si stanno picchiando in questa casa Cosa sta succedendo? Ciao Ciao Giulia Qual è il tuo colore preferito? Che faccia? Ma come no? Hai rovinato tutto Cosa no? L'hai fatto rimanere malissimo Lei è innamorata di colori Guarda la sua faccia No Guarda la sua faccia Ciao Lei Lei Ciao Ciao Sì Mi hai beccato Cioè ho un cappello Ma sì sono io Mi sa che abbiamo sbagliato Ciao Questo se la metti nel video Fai un sacco di visual Per favore Ciao Aspetta Sono sicura che è un video finto No Perché l'hai tolto? Vado a vedere se era finto Tutto o meno Ma perché? Avete rovinato tutto Posso farti una foto? Certo Possiamo ammettarci anche noi? Sì certo Ma che cos'è quello? Una banana Non lo so Non lo so I'm a banana I'm a banana I'm a banana Banana power Di nuovo Ancora E ogni volta Ogni volta stai vestito in modo diverso Ciao in mano Ciao Mi dedichi una canzone? Fai così Registrala sul cellulare Mandamela su facebook E io la metto lo stesso nel video Ok? D'accordo Ciao bello Ciao ciao Eccolo È ricomparso L'abbiamo ritrovato Ve l'avevo detto che era finto Ciao Charlie Ve l'avevo detto che era finto Le indovino tutte No Ehi Ehi Questa parte la devo censurare su youtube Questa la devo censurare gente Ciao Ok Ciao Ciao C'è una finestra C'è una faccia Ciao Cioè qua ci stanno Dan 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 Stanno scorreggendo Ciao Anche tu cerchi Charlie Moon Anche noi non la troviamo Nemmeno io non trovo Charlie Moon Dov'è? Non trovo Charlie Aiuto Sto cadendo Non trovo Charlie L'hai vista? Cerco Charlie Moon Io che l'hai trovata Non dirmi che si è FK Ben si No invece no Luigi Ciao amico Ciao di nuovo Ci sono le persone che mi cercano da 50 minuti Che non mi trovano E tu che mi hai trovato addirittura tre volte Ciao Ciao Non ho capito chi siamo Sì Sì Trovate Bravo Ciao Ciao E lei non la saluti Non sai chi è Ciao 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 Dai cazzo Sì sono io Perché non dovrei essere io Sì giuro che sono io Guarda ti faccio vedere Certo vai Ma stai sotto la scrivania per caso Eh mi so Ti sei nascosto Eh sì Ovviamente c'è il computer portatile Attaccato anche lì Dice Ah capito Quindi stai sotto Ok Comunque sono io quella della tipa che si spoglia Ah E allora uscirai sicuro nel video Hai vinto tutto Sarai in copertina addirittura Giusto hai visto Ci capiamo io a te Ciao Oddio Oddio Non cadere Non cadere per favore Non cadere Sì sono io Ciao C'è talmente tanta gente Peggio di quanto c'era Fabi J Beh dai Non esageriamo Non è che poi sono così famosa Però ti ringrazio Che cosa? Ciao Mi hai spaventato Mi hai urlato Sì sono io Ciao Grandi Non rompere la scrivania Prendi lo schiaffi Prendi lo schiaffi Charlie è appena crashata Sto cercando di tornare Passa parola Grazie Questa è la più bella Questa è la più bella Charlie è appena crashata Sto cercando di tornare Passa parola Ero io Ciao 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 Si è andata a fare la cacca? No Cosa stai facendo? Ci ho trovato Ok Sto cercando Charlie Cerco Sto cercando Charlie L'hai trovata? L'ho trovata Charlie Dov'è? Dov'è? Per favore me lo indichi È da un'ora che la cerco È di fronte a te Oh mio dio A Charlie Moon di fronte Sta ridendo La mia faccia è simpaticissima Infatti mi stai simpatico Diventerai il mio fratellino adottivo Il fratello che non ho mai avuto Io non ho la sorella adottiva Oddio Cosa stai Le tre marie Ok Questa è bellissima Questa la metto Guardala Tu sarai a vederlo in anteprima È stupenda Le tre marie Allora aspetta Ma hai trovato Tu l'hai trovata Charlie Io non la Dove? Come hai fatto? Io è da un'ora che la cerco Ma l'ho scritto bene secondo te È scritto bene? Forse è per Ma è andato via Ciao L'hai trovata? L'hai trovata? L'hai trovata? Noi la stiamo cercando ancora Sì Siamo noi Vai saluta Saluta il video Questa è la fine del video No Soltiamo anche noi È la fine del video Ciao È la fine È la fine Saluta tizio So che non mi senti Ma è la fine Saluta Non sta capendo niente Saluta Io lo so Però io Devi so Io non sento te Ci vedi? Adesso non ho fatto nulla Telecamera Cosa sta succedendo? Chiedi se ci vede Io sentirete Cioè Io non ti sento Sì ma saluta È la fine del video Saluta Ciao Ciao Iscrivetevi a questo canale Soprattutto a quello di Charlie Commentate nella descrizione Tante belle cose Guardate i video su Frager Che voglio fare i pacchi E tante belle robe Ciao 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 Ciao